I partiti di linea di me lo vediamo sentire la vostra volta Se volete chiamare al nostro programma, se praticamente volete per parte di grande al nostro sito Potete chiamare all'144132301 La condo, lo aspettiamo Ecco lo che passa Salta sopra i tavoli Fa un casino tremendo Nostro ciccio Mena male che non lo sentite E lui E lui sta arrivando A Dijon Ciccio To Dance Time Dance Time Dance Time Dance Time Abbiamo ascoltato al Mia e Giulia E la prossima richiesta Qua va Mario E 20 figures Di Simona La Sex Machine La Sex Machine La Sex Machine Ma Franco guarda Comunque mi ha presi mai una donna Per il telefono eh No 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 Come ha detto male Tu hai sentito C'è una bella voce Infatti come ha detto male C'è una voce molto dolce Molto dolce La posta di chi Chi è sta? Laura Benapicco Che voce ha avuto la Laura Dai dillo Dolce e sensuale Se volete E abbiamo avuto un sacco di richieste E' vero Caro Mario Mamma mia Quanti telefonati Telefoni che sfilano Che si stracciano i capelli E abbiamo una diretta Pronto 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 ci senti? Pronto Dimmi qual è il tuo nome? DJ Paulus Ciao Non so questo nome Forse già Già l'ho sentito Sono in qualche locale qui Si Suonavo RCP Ah infatti Ciao Come sei Flori? Sto bene Un po' di a pro Dijon Mario? Sempre Ciao Paolo Ciao Mario Come stai? Tutto bene Paolo Stai dicendo Come l'hai telefonato? Ci hai risentito? Sono ormai tre anni Che non Non vieni più a trovarci Qui a RCP E che vuoi fare? Rimediere 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 Sicuro Paolo? Sicuro sicuro Dici Paolo vorresti salutare qualcuno oltre voi? Gli ascoltatori vecchi Ok Ascoltatori vecchi Velo shock time Il mitico shock time Volevo salutare Paola Che lunedì compie gli anni Paola Venere Ok Paola Venere Ma è il cognome Pena è il cognome Bellissimo Ma è un soprannome Eh infatti Assoluto Paolo guarda io vado a controllare Controllare Paolo Ragazzi comunque il programma sta riuscendo bene Ti piace il nostro programma? Ma ci sfotti? No no è bello è bello dai È bello E condurgo meravigliosamente Dai vi faccio un po' di complimenti Te ringrazio Paolo Eh prego Sta funzionando bene Il nostro 144 132 301 Dai mi piace questo disco Dai mettilo che scelghi Che la scelghi? Si scelghi Buon bassi Te lo facciamo ascoltare Paolo ti salutiamo Ok Le telefonate sono molte Abbiamo un sacco di richieste Se vuoi venire a trovarci Eh ripetati di me mi raccomando Non ti preoccupare Ciao Paolo Un saluto da RCPO6 Da DanceTime Da me e Floriano E da Mario Ciao Paolo Ciao ragazzi Ciao Vi salutiamo sabato prossimo Dalle 16 alle 18 Oggi mi ha fatto un po' tardi Mi ha iniziato anche un po' tardi Ehm Ci spero che la prossima Per il prossimo Per il prossimo appuntamento Saremo in orario Eh Mario Come amico DJ Floriano E DJ Mali Dall'altro lato del microfono Vi salutano E ci risentiamo Le prossime Saremo il prossimo sabato Forse Faremo Il nostro programma Anche Nell'arco della settimana Non si sa quando Vi diremo la prossima Il prossimo sabato Ciao da Floriano Ciao DanceTime Ciao 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 Grazie a tutti.